sapete chi è maui il più grande semidio di tutto il pacifico del sud con il suo magico arpione egli ha rallentato il sole e tirato fuori le isole dal mare combattuto mostri e io posso dirlo perché maui sono io ehi lasciami fare prego niente davvero ma se mi dio che deve fare di più le storie so far out was in a never-ending chair no 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 c'è mare N'è con l'haggia We know the way